Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 19 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti in questa quotidiana rassegna stampa Anche in questa mattina offerta da Tecnocampus Cominciamo subito questa giornata vedendo quali sono i fatti in primo piano Anche perché questa mattina i principali quotidiani nazionali Aprono proprio su temi scottanti che riguardano inchieste Da un lato su esponenti del Movimento 5 Stelle E dall'altro lato su esponenti della Lega Ed è subito contraddittorio aperto tra i due vice premier E intanto cominciamo a vedere i fatti E questa mattina li vediamo direttamente dal quotidiano di Via Solferino a Milano Il Corriere della Sera E vediamo che infatti titola proprio così Il governo vacilla sulle inchieste La maggioranza, l'esponente del carroccio Sono tranquillissimo, non lascio E intanto la sindaca, audio rubati, dico cose normali Il sottosegretario Siri infatti della Lega ha indagato I 5 Stelle chiedono le dimissioni Un esposto sulle pressioni di Raggi Infatti è vera e propria attenzione nella maggioranza sulla giustizia Armando Siri, sottosegretario leghista E indagato per corruzione I 5 Stelle chiedono le sue dimissioni E il ministro Danilo Toninelli Gli ritira le deleghe Non me ne vado, replica Siri Esposto contro la sindaca di Roma Virginia Raggi La lega attacca in adeguata In e poi continua a dire Lasci, audio rubati Dico solo cose normali E questa la difesa che arriva proprio dalla sindaca Raggi E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Vediamo quella che viene definita proprio da questa prima pagina Del Corriere della Sera Due forze sempre più divise La strategia degli strappi E infatti è Massimo Franco Che dice così Vedere due forze giustizialiste Che si azzuffano accusandosi l'una e l'altra Di incoerenza sulla questione morale Dovrebbe far riflettere in primo luogo E proprio sui protagonisti E potrebbe anche risultare Salutare per avere un approccio meno demagogico Alla realtà Ed ancora le intercettazioni Vediamo quanto ci è costato 30.000 euro questa operazione Ci è costata 30.000 euro Dice l'imprenditore Paolo Arata Al figlio Francesco Riferendosi ai compessi Destinati ad Armando Siri Per modificare i provvedimenti legislativi Una cimice della DIA Registra la conversazione Ci sono altre intercettazioni Che documentano i tentativi Di far uscire quei soldi Dai bilanci delle società E intanto nell'editoriale Vediamo Torti e debolezze La tregua ambigua In Libia Di Paolo Miedi La parola tregua Infatti Sembra essere La più adatta Ad affrontare Momenti di tensione Come quelli prodotti Con l'attacco a Tripoli Del generale Aftar Iniziato nella notte Tra il 3 e il 4 aprile Ma è solo apparenza In realtà Il termine tregua Contiene qualcosa di ambigua Ambiguità Che indebolisce In prospettiva Di una pur momentanea Pacificazione Prima di tutto Perché accantona La distinzione Tra aggressioni E aggrediti Poi perché trascura Il fatto che Sarrae alla guida Di un governo Di salvezza nazionale Riconosciuto Dalle Nazioni Unite Può vantare Titoli di legittimità Del tutto sconosciuti Ad Aftar E infine Perché la richiesta Di un cessate il fuoco Sorvola sulla circostanza Che 15 giorni fa Le truppe dell'esercito Nazionale libico Hanno percorso 1500 chilometri Per portarsi Alla periferia Di Tripoli Da dove hanno iniziato A cannoneggiare La capitale Sicché Queste milizi Hanno occupato Un'area Assai vasta Del paese Insomma La realtà Si presenta Sempre più complessa E sempre più Paradossale Tanto è vero Che adesso Questa guerra Della Libia Si ripercuoterà Ovviamente Sulle altre Sulle altre situazioni Sugli altri stati E tanti saranno Comunque Le persone Che si sposteranno Cercheranno Aiuto altrove E ancora Su questo Si dibatte Proprio all'interno Del governo Tra possibilisti E ovviamente Persone Che vogliono Effettivamente Non far entrare Nessuno E quindi Chiudere Tutto Ma ancora Continuiamo a vedere I fatti Proprio sulla testata Corriere della Sera E vediamo che Questo quotidiano Oggi parla di Greta Ricordate la ragazzina Che ha smosso Mari e monti In nome della terra Del nostro pianeta Salviamo la terra Il nostro mondo Quello su cui Camminiamo E che ci dà Tanti frutti Belli e cari Che noi Troppo spesso Dispreziamo Ed ecco qua Che ne viene Parlato Proprio di lei In questo breve Attacco Nella parte iniziale Greta Odio la conversazione Dice Parlo solo se serve Infatti è Greta Thunberg La sedicenne Che si batte Per salvare il pianeta Ricevuta ieri Dal presidente Del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati Ammette di essere Poco socievole E ribelle Ma di parlare Solo se serve Insomma Dopo essere stata Da Papa Francesco Ancora continua Ad essere accolta Dalle autorità italiane Proprio per far passare Questo messaggio Ma di contro Dice io parlo poco Quindi probabilmente Userà le parole essenziali Tanto che è stata ascoltata Più per i suoi gesti Che non per le parole E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Stati Uniti Il procuratore Tentò di ostacolare Gli inquirenti Ma non è impeachment È quello che riguarda Appunto Trump E le interferenze russe Non c'è prova Di collusione Infatti Donald Trump Tentò di ostacolare L'inchiesta Su Russiagate Ma non c'è prova Di collusione Il procuratore Robert Mueller Ha elencato I dieci tentativi Condotti dal presidente Americano Per bloccare O arginare il caso Sulle presunte interferenze Del Cremlino Sulle elezioni Proprio per la Casa Bianca Ed ancora Andiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Accuse a un carabiniere L'ennesima situazione Che rappresenta Proprio il nostro mondo Sempre più articolato E brutto E intanto Indagini inutili Per pagare il consulente Indagini inventate Nel 2009 2011 Nelle procure di Milano E Brescia Per strapagare Un milione di consulenze A un imprenditore informatico Corruttore del carabiniere Braccio destro Del PM Che oggi guida La procura di Trento E ora Con l'arresto Dell'imprenditore Si scopre Che nel 2015 Un giudice Fece un esposto Ma CSM E PM Di Venezia Archiviarono Tutto E intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina Di questa prima pagina Sempre del Corriere della Sera Che titola proprio così Insopportabili E insopportabili Chi sono? Secondo Massimo Gramellini Ed eccoli qua Allora Riassumento Dice Salvini vuole licenziare La Raggi La sindaca Intercettata In quota Di Maio Di Maio Vuole licenziare Sidi Sottosegretario indagato In quota Salvini Salvini e Di Maio Vorrebbero licenziare Tria Che non è intercettato Né indagato Ma è parecchio scoraggiato Tria vorrebbe licenziarsi E andare in pellegrinaggio In India A condizioni di non trovarci Di Battista Di Battista Prima di partire per l'India Vorrebbe licenziare Salvini E lo dice Ma pure Di Maio Anche se non lo dice Nemmeno di conto Che nessuno si sogna Di licenziare Per la semplice ragione Che forse Si sono dimenticati Di averlo assunto Quanto a Giorgetti A occhio il più serio Della compagnia Se fosse per lui Licenzierebbe tutti Al posto di ministri Metterebbe dei sagomati Farebbero meno danni E verrebbero persino Meglio nei selfie Insomma Un po' di ironia Questa mattina Dal Corriere della Sera Proprio in relazione A tutto ciò Che riguarda il nostro governo E tutti i dibattiti E le problematiche Della politica Che stanno emergendo Sempre più Forte E che comunque Ci danno sempre Materiale Per poter discutere Ancora continuiamo A vedere le prime Pagine quotidiane nazionali Vediamo che cosa Racconta questa mattina Il fatto quotidiano E si parte proprio Da Russia Gate Nella parte alta Della pagina E anche qui Il rapporto Muller Che scagiona Di fatto Trump E sfila E ai democratici L'arma per accusarlo Di ostruzione La giustizia Sfumato L'impeachment Si pone proprio Questo interrogativo Il fatto quotidiano Ma continuiamo a vedere Quali sono le altre notizie Proprio In primo piano Salvini Siri E quei compari In Sicilia Il sottosegretario Indagato Tangenti Da socio Dell'uomo Di Messina Denaro Di Maio Si dimetta Ma la Lega Lo difende E chiede La testa Della Raggi E ancora Vediamo proprio Eccola qua L'immagine Le vediamo Eccoli qua Il buco Nell'indagine Arata Vaccena Consigli a Roma I PM Smettono Di intercettarlo L'intervista Di Battista Non il carroccio Agli antipodi Sulla legalità Fuori Chi sbaglia Intanto Nella colonna Di sinistra Eccoci qua La Raggi Che comunque Parla E viene intercettata Intanto Il DL Dignità Gennaio Febbraio I contratti precari Divenuti stabili Salgono Dell'82 Mentre I PM Sono sempre più Preoccupati Il pentito Messina Accusò Andreotti Ora non si trova Da oltre tre mesi E continuano I commenti Il DL Sblocca Cantieri E pura Follia Giuridica Ed infine Le idee Malsane Di Macron Su Notre Dame Dopo Alcuni giorni Dall'incendio Si continua Ancora A discutere Proprio Di questa vicenda Che ha coinvolto La Francia E soprattutto Sulla ricostruzione Di questa Grande struttura Che è stata Arsa Almeno in parte Dal fuoco E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Cambiamo Lato Della nostra Istituzione Vediamo Renzi Che querela Tutti Querelatelo Tutti Segnalate Segnalateci Quelli Che lui Ha insultato Impunemente Pan per focaccia E quello Che appunto Dice questa mattina Il fatto Quotidiano Ed eccolo Qua Treme Bondi Ci accingiamo A scrivere Ancora Del dottor Matteo Renzi Ma solo Perché lui Torna Per suo A far parlare Di sé Impronando Il cielo Di non essere Nell'eccetera Della lista Dei querelati Resa pubblica Da lui Ieri L'altro Sui social E pregando Due volte Al giorno Al mattino Alla sera Di non essere Stati segnalati Dalla sua Polizia privata Social Alla casella Mail Che il senatore Ha predisposto Affinché Anche l'ultimo Troll Di Twitter Possa fare Da delatore Offriamo Qui uno Stringato Compendio Di insolenze Insulti Sarcasmi E allusioni Che negli anni Renzi Ha rivolto A questo e quello E' stato calcolato Che se tutti I bersagli Dei suoi strali Lo quellerassero I tribunali Sarebbero Ingolfati di cause Da contro Renzi Per circa 130 anni E ancora Vediamo anche qui La visita al senato Di Greta I potenti Applaudono E poi che cosa accade Non fanno niente Questo è il diktat Che viene Ovviamente Messo in evidenza Proprio dalla presenza Di questa ragazzina In senato Ma ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano E secondo libro Così si incentiva L'illegalità E vediamo come Se sale l'IVA Crescono gli evasori Tria pensa che Aumentare l'imposta Sui consumi Sistemerà i conti Ma è una pia Illusione Più tasse da sempre Significano più nero Fattura elettronica Sistema in palla Si devono fare I calcoli A mano E il reddito Di cittadinanza E' già fallito Protesta pure Chi lo riceve E ancora Vediamo le altre Notizie In primo piano Vertice di governo In Calabria Conte promette Al sud Una pioggia Di Quattrini E intanto Chi è 30 Dal CCD Al Movimento 5 Stelle E la ministra Della difesa Che bombarda Salvini E ancora Nella parte bassa Della pagina Eccola qua La tv Che di contro Si presenta Proprio Come elemento Portante Di questo Nostro governo Dove Sembra che ogni giorno Proprio Le dispute Tra i politici Siano tratte O da un reality O comunque Da una vicenda Televisiva Ed ecco Che viene Proprio In mente Barbara D'Urso E quello Che è avvenuto In una settimana Ossia Riconosce la figlia In tv Dopo 34 anni E grazie Proprio A lei C'è stato il riconoscimento In seguito Alla testimonianza Del DNA Ma intanto Continuiamo a vedere Ancora la politica Nell'editoriale Di Vittorio Feltri Che titola proprio così La marcia grillina Che è un bidone La mancia grillina Che è un bidone Vuoto E nella parte destra Della pagina Anche qui La svedese Che è in Parlamento Lei li insulta I senatori gretini La applaudono E intanto Del caos In Libia Non importa nulla A nessuno A parte La ghiattura Profughi E nella parte bassa Della pagina Eccoci qui Si parla di Pasqua Visto che ormai Siamo a due giorni Da questa festività Più della metà Mangerà l'agnello Pasto vegano Solo per il 3% Italiani animalisti In salotto Ma ovviamente Non a tavola E nella parte bassa Della pagina È pronto soccorso privato Che a quanto pare funziona Paghi 100 euro E non fai code E sembra questa La soluzione Per quei Pronto soccorso Che ultimamente Stanno destando Tanta attenzione Proprio per Le file Smisurate E per i fatti Che Purtroppo Campeggiano Dalle prime pagine Dei quotidiani E ci fanno temere Per la nostra sicurezza E soprattutto Per la nostra esistenza Ancora continuiamo A vedere il giornale Altre tasse Si chiede proprio il giornale Basta È questo che viene definito Un vero e proprio salasso Tria conferma Aumenterà l'IVA Maxi stangata Sulle famiglie Da Di Maio a Fico Tutti gli stipendi Dei politici Ed ancora Vediamo quali sono I primi passi Verso questo Fisco Preoccupante La pressione fiscale Nel secondo semestre 2018 In cui si è insediato Al potere Il governo Cinque stelle Lega È salita Dello 0,1% Rispetto a 2017 Ossia Su base Minima Dello 0,2% Invece La Lega Ha aumentato I voti Nelle direzioni Politiche Del 2018 Ed ancora Vediamo Quello che Viene definito Da Alessandro Sallusti Il voto Tradito Mentre La baby attivista Thunberg Da Francesco Il comunismo verde Dei gretini Adesso sbarca Anche in Vaticano Lo vediamo proprio in centropagina E il governo del cambiamento Che è solo un gioco di parole Mentre Salvini Commissario ai sindaci E scoppia la rissa Con i grillini Sicurezza Più poteri Ai prefetti E questo fa arrabbiare Ovviamente I sindaci Che dicono Noi facciamo il nostro lavoro Perché adesso Dobbiamo arrivare A questa soluzione Sembra davvero Qualcosa di improponibile Ma noi continuiamo Ancora a parlare Di questa informazione Che trionfa Proprio dalle prime pagine Dei quotidiani Ma lo facciamo Solo dopo Qualche minuto Di pubblicità Perciò Continuate a seguire Teleprima E ci vediamo Dopo qualche momento Di pubblicità Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus Continuiamo questa rassegna stampa Continuando a vedere le prime pagine Quotidiani nazionali Adesso vediamo Che cosa racconta il tempo E parte proprio Con le intercettazioni A Virginia Raggi Appunto Che è stata intercettata Mentre ammette con crudezza La sporcizia Della capitale E se aumento La Tari I cittadini Mettono la città Ferro e fuoco Altro che gilet gialli Indagato intanto Per corruzioni Siri Il papà Della flat tax Di Salvini E di Maio Lasci E intanto Vediamo un'immagine Di Papa Francesco Con Virginia Raggi E intanto Le micro spie Della verità Vengono raccontati Proprio da questa Prima pagina E nella parte bassa Di questo Di questa mattina Piangeva troppo E la mamma strangola Il bimbo Tragedia Vicino Frosinone La donna Prova a incolpare Un'auto pirata Ma la sua avversione Crolla subito E ancora Siamo sempre più indignati E soprattutto Preoccupati Da queste notizie Che rappresentano Quanto di più Inumano Possa esistere Ancora Continuiamo a vedere Il caos Negli ospedali Del Lazio Un medico Su quattro Lavora A singhiozzo Mentre Per quanto riguarda Il mondo Del lavoro Nelle tombe Del verano Centomila dosi Di cocaina Ha arrestato Un marmista Proprio La situazione Che si presenta Sempre più complicata Ed intanto Nella parte bassa Della pagina La capitale La città Della scienza Con Euro E caroma 2019 Laboratori Gite Mostre Fino al 2 giugno Insomma Da questa prima pagina Finalmente Una buona notizia Che riguarda Ovviamente La cultura E che rappresenta Uno spiraglio Proprio Di energie E soprattutto Di respiro Per questa giornata Ed ancora Vediamo La Repubblica Mazzette E Mazzate Titola proprio così Caso Siri Sottosegretario Leghista Indagato Per corruzione Movimento 5 Stelle Ne chiede Le dimissioni Ma Salvini Non se ne parla E per il caso Raggi Audio Rivelano L'ordine Al manager Dell'Ama Deve cambiare Il bilancio La Lega Lasci Il Campidoglio E intanto I re sono nudi Ma purtroppo Lo è Anche l'Italia E la sindaca Fuori controllo Così viene definita Vittoria Raggi E ancora Nella parte Destra Della pagina Ancora Un'immagine Di Greta Thunberg La vediamo Proprio qui Voi ci guardate E non capite Questa Ovviamente Un'affermazione Che riguarda I potenti Della terra Ma che nel contempo Riguarda Sempre più persone Dove ci sono Quelle che agiscono E quelle che continuano A parlare 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 Senza però Fare atti concreti Tant'è vero Che rimangono Parole al vento E ancora Nella parte bassa Della pagina Russia Gate Su Trump Il brivido Dell'impeachment E ancora Sempre da questa pagina Arrivò Kennedy E gridò Io sono un berlinee E questa Quella che viene Definita cronaca Del muro Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo ancora Su il messaggero Pressioni su Ama Un audio in guai A raggi E intanto I richiami della foresta Con la miccia giudiziaria Salta il banco Giallo verde Nella parte centrale Della pagina Si rindagato Governo a pezzi Il sottosegretario Accusa di corruzione Toninelli Gli toglie le deleghe E Di Maio Si metta Salvini lo difende E intanto Attacca su Roma Il sospetto Movimento 5 Stelle Vuole spingerci Alla crisi Prima del voto E Russia Gheta Soluzione a metà Per Trump L'accusa Dell'FBI Voleva ostacolare Le indagini Proprio su di lui E miti infranti Svezia Opere rumache Tutti gli sprechi E lavori E infiniti A quanto pare Non è un problema Che riguarda Solo l'Italia Ma anche la Svezia Il bel paese Che è stato definito Da tanti Proprio con questi In questi termini Però a quanto pare Anche lì Le strutture Peccano E nella parte bassa Della pagina Degrado capitale Verano Lo sfregio Deposito di coca Al posto Delle bare E ancora continuiamo A sfogliare Le prime pagine Dei quotidiani nazionali Vediamo adesso Il mattino Proprio che cosa Accade In questa giornata E vediamo Nella parte alta Della pagina Il blitz Al verano La coca Nascosta Al cimitero A Roma E sempre Romanzo Criminale Insomma Sembra Che la realtà Sia davvero Approdata Proprio Come se fosse Un film Ma un film Non è E proprio questa La realtà Ed ancora Il tesoro Di San Gennaro Con vista Sui rifiuti La vergogna Al duomo E per quanto riguarda Il festival Canna La mafia Di Bellocchio E la Napoli Di Maradona E intanto Nella parte centrale Della pagina Eccoci qua Notte fonda Ancora Una brutta Batosta Per il Napoli In Europa League Questa volta Azzurri eliminati Sostituito E fischiato La rabbia Di Insigne Napoli Spreca L'Arsena Non perdona Ancelotti Dice Andrà meglio Tra un anno Con Nonchalance E vediamo Il punto Una stagione Insufficiente E le pagelle Scusate Coulibaly L'ultimo guerriero Meret E Caledion Che errori E intanto Dopo gli errori Del Napoli Continuiamo a vedere Le altre notizie Che riguardano La politica Ancora una volta Si rierraggi Le inchieste Fanno tremare Il governo Sottosegretario Accusato di corruzione Toninelli Gli toglie subito Tutti i poteri Pressioni per i rifiuti Sindaco Nei guai Con la miccia Giudiziaria Assalta Il banco E i 5 stelle Il diritto Calpestato Proprio nel racconto Di Massimo Adinolfi Infatti i sondaggi La campagna elettorale E una distanza Fra le prospettive Di lega e movimento 5 stelle Che si amplia Sempre più Potremmo aggiungere Pure una terribile Inondazione E l'invasione Delle cavallette E questo sarebbe Proprio il pieno Sta di fatto Che i Blues Brothers Che stanno al governo Non smettono Di tirarsi coltellate E ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano I miti infranti Cantieri infiniti E sprechi Il blef svedese Anche da questa Prima pagina Triunfa appunto Questa notizia E intanto Nella parte bassa Della pagina La testimonianza Il racconto shock Di Angela Io Controllore Sulla circonvesuviana Tra botte E insulti Sessisti E di questa notizia Ne terremo conto E le andremo ad esaminare Nella seconda parte Della rassegna stampa Ancora vediamo Le notizie in primo piano Ci spostiamo Su il manifesto Extinction Rebellion Si prende Londra La protesta Del movimento ambientalista Che paralizza La capitale E intanto Si parla ancora una volta Di Friday for future Greta e Roma Ma questa volta Non per i selfie Come tutti Potrebbero pensare E molto spesso Lo pensano Senza dire Nulla di nuovo E intanto Nella parte centrale Della pagina Eccoci qua Quella che viene definita Durante questa settimana Santa La questione immorale Tra Lega e Movimento 5 Stelle Guerra giudiziaria Il ministro Toninelli Toglie le deleghe Al sottosegretario Siri Indagato per corruzione In un'inchiesta Sull'eolico E Di Maio Ne chiede le dimissioni Poi escono gli audio Della sindaca Raggi Su Ama e Salvini Chiede la sua testa Insomma Scontro diretto Proprio tra i vice premier E i due elementi Carden di questo nostro governo E le battaglie Sembrano non finire qui E vediamo anche Dalla stampa I 5 Stelle Contro Salvini No ai potestà fascisti Degrado urbano Il leader leghista Vuole trasferire potere Dai sintaci Ai prefetti E Di Maio Sono i cittadini a scegliere Chi governa E l'ABC Della democrazia E continuiamo ancora A vedere le notizie In primo piano Vediamo ciò che riguarda La parte economica Sul sole 24 ore All'Italia Incamerati In 900 milioni Del prestito pubblico E i casi Siri raggi Scuotono il governo Esplode la tensione Tra Lega E Movimento 5 Stelle E intanto Vediamo nella parte centrale Appalti Escluso Dalle gare Chi evade E intanto I PIR Rendono Ma la raccolta Ancora una volta E ferma E quanto costa Si domanda appunto Questo quotidiano Quell'attesa Ai risparmiatori Infine nella parte bassa Della pagina Bonus Ristrutturazioni Salvo Anche senza invio Dei dati All'Enea Ancora continuiamo a vedere La parte economica In questa giornata Con Italia Oggi Con i rispettivi Via smartphone Dal primo luglio Potranno essere trasmessi Via web All'agenzia Delle entrate Senza la necessità Di dotarsi Di nuovo Registratore Di cassa Telematica Questa è una svolta Proprio in termini E ancora Vediamo a 38 giorni Dal voto L'Unione Europea E media Sono pieni di aria fritta Prodotta dai partiti E intanto Coca Cola Darà il nome Ad un'arena A Dubai E ancora Si parla di Navigator Per il reddito Di cittadinanza E come potete vedere Scatta l'ora X Da ieri fino all'8 maggio Possibile presentare Le candidature Insomma Un'occasione Ghiotta Per chi cerca Lavoro Ma staremo a vedere Che cosa accadrà Di questa figura Intanto Sulla parte sportiva Vediamo il correre Dello sport Cosa racconta oggi Di Bala Per i Cardi Ma Paolo Non ci sta Juve e Inter Riallacciano i contatti E lavorano allo scambio Il bianco nero Si impunta Vuole restare O andare all'estero Ed intanto Nella parte centrale Poveri Eliminato anche il Napoli L'Italia fuori dall'Europa Poveri noi Appunto Titola così E l'Arsenal Passa a San Paolo Per 0 a 1 Decide una punizione Di la Cazette Il segno è sostituito Esce tra i fischi Ancelotti I risultati Verranno E quello che è stato Definito appunto Visto il periodo Quaresimale Il giovedì Delle ceneri E intanto Vediamo ancora Nella parte bassa Bari Così si risorge Meno di un anno Della Junior Centra la sci Vincendo a Troira E ancora Fognini show Colpo Solego A Monte Carlo Due azzurri nei quarti Fabio Annienta Zverev Lorenzo Batte E ancora Vediamo sempre La parte sportiva Da tutto sport Il cuore non basta Napoli K.O. Ma testa alta Dice questa testata Europa League 1-0 Arsenal A San Paolo Semplicitale Nelle due coppe Senza italiane Ramsey Guaio Muscolare Nella parte centrale Della pagina Di Bala Icardi A fare Per due E ancora Vediamo Paratici Marotta Valutano il clamoroso Scambio I pro e i contro Da Emre Can Difensore E i nuovi acquisti Ecco il progetto Allegri Il dossier Bianconeri I primi Fra le big Di Champions Per gli infortuni E nella parte Bassa Della pagina Eccoci qua Juve Mossa numero 1 Rafforzare la difesa E la numero 2 Fare come il Tottenham E intanto Fognini e Sonego Un giorno da principi Fabio Strapazza In numero 3 Zverev Lorenzo Elimina Norri Oggi vanno a caccia Delle semifinali E tutto questo Per il mondo Del tennis Insomma il variegato Mondo sportivo Presenta varie discipline Che ogni mattina Ci deliziano Proprio con tante novità A parte le perdite In Champions Per quanto riguarda In Europa League Per quanto riguarda Il calcio E per quanto riguarda Questa prima parte Della rassegna stampa Ci fermiamo un attimo Vi lascio a qualche attimo Di pubblicità Ci riprendiamo un momento Dopodiché Ritorniamo e vediamo I fatti che riguardano La campagna E per quanto riguarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. E ancora una volta bentornati in studio. Continuiamo a vedere i fatti che ci riguardano proprio da vicino, ma partiamo proprio sullo sport e andiamo a vedere che cosa è accaduto a Napoli ieri, che titola proprio questa mattina la Repubblica, che delusione fuori dall'Europa. C'è un caso in signe. E infatti brutta prestazione a San Paolo nel ritorno con l'Arsenal, che vince 0-1 senza soffrire. Infatti Napoli saluta l'Europa. La Liga nel peggiore dei modi. Gli azzurri perdono contro l'Arsenal anche a San Paolo. Decisiva la punizione della Gazette, che condanna la squadra di Ancelotti, incapace di impensierire un avversario più forte. Deludono tutti gli uomini rappresentativi. Insigne non incide e non gradisce il cambio al quindicesimo della ripresa. Milik sciupa tanto. Alan e Fabian sono irriconoscibili in mediana e così sorride l'Arsenal. I tifosi delle curve non la prendono bene e contestano il presidente dell'Aurentisi. Insomma, veramente una partita che lascerà il segno, però purtroppo non in senso positivo. Ma ancora cambiamo argomento e vediamo che cosa accade a Pasqua per quanto riguarda il trasporto. Ci stiamo riferendo a Napoli, metro linea 1, funicolari e bus fortunatamente garantiti. E infatti la linea 1 della metropolitana, le funicolari, i bus a Pasqua saranno in attività a servizio dei napoletani e dei turisti che affollano la città. La svolta positiva rispetto al 2018, quando tutti i servizi si fermarono all'ora di pranzo, è stata ufficializzata al termine di una lunga serie di riunioni tra i vertici di ANM e le rappresentanze sindacali, chiudendo un accordo che costerà all'azienda 61 mila euro. È stata una trattativa, spiega l'amministratore unico di ANM Nicola Pascale, portata avanti con serenità e impegno da entrambi le parti. E di questo ringrazio i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali che confermano un rinnovato spirito di impegno comune per la missione dell'azienda. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ancora una volta dalla Repubblica. E vediamo chiesa delle 33, la denuncia crepe preoccupanti sulla facciata. L'accusa arriva dal comitato Porto Salvo. Lesioni aumentate dell'ultimo anno e mezzo sono collegate ai crolli degli incurabili. Quelle lesioni sono allarmanti, bisogna intervenire al più presto. La denuncia è di Antonio Pariante, comitato civico Porto Salvo e da sempre attento osservatore dello stato dei monumenti in centro storico. Le lesioni in questione sono della chiesa di Santa Maria di Gerusalemme in via Pisanelli, più comunemente conosciuta come delle 33. Diverse crepe più o meno profonde sono estese su tutta la facciata esterna dell'edificio risalente al XV secolo. La cosa ci preoccupa, dichiara Pariante, soprattutto perché se sono ingrandite negli ultimi tempi, un anno e mezzo fa, erano lunghe solo la metà. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano dai quotidiani online. Ci spostiamo su Il Mattino e si parla ancora una volta di Sanità, lega Movimento 5 Stelle ai ferricorti sul commissario in Campania. E infatti vediamo che è tutto rimandato, il commissario della Sanità Campana non è stato nominato. Il governo Conte, riunitosi ieri a Reggio Calabria proprio per assumere provvedimenti urgenti sulla sanità locale, non ha deciso di sostituire ancora il governatore De Luca, un sospiro di sollievo per lui temporaneo, se non andrà a buon fine alla trattativa con alcune stanze romane, la tolega per evitare la nomina di un tecnico che prenda il suo posto alla guida della sanità. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha infatti ribatito l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Regione e quella di commissario. Non è una legge facoltativa, va applicata e quindi se la Regione rimane commissariata, lo si deve ad una Regione oggettiva dopo l'analisi dei dati di monitoraggio. La campania rimane commissariata al di là dei capricci. Il mattinato il Presidente aveva infatti mostrato una certa cautela pur attaccato il Movimento 5 Stelle. La nostra pazienza ha detto è arrivata alla fine. Invitiamo quindi tutti a fare le persone corrette e a non confondere il Governo nazionale con la piattaforma russo e i tweet. E appunto questo dice il Governatore della campagna che dice che il Governo è una cosa seria. E ancora vediamo gli altri fatti. Sempre da Napoli, il corteo del PD a Rione Villa, ma non venite a fare campagna elettorale. Allarme e sicurezza davanti alle scuole e bagarra. Nella sede della Municipalità San Giovanni l'appuntamento era stato comunicato a 13 dirigenti scolastici delle zone calde del territorio, alla presenza degli assessori regionali all'istituzione e alla sicurezza. Lucia Fortini e Franco Roberti da parte della Regione si aspettavano risposte concrete dopo l'ultimo omicidio di Camorra a Rione Villa. Ma la riunione che doveva essere incentrata sull'emergenza criminalità si è trasformata in uno scontro politico poiché è annunciata la presenza della Municipalità a maggioranza PD, ha visto la presenza di esponenti regionali e democratici e questo ha portato ancora a determinate e purtroppo continue dispute. E ancora sempre dal mattino io, controllore della circunvesuviana, l'avevamo annunciato prima dalle pagine cartacee del mattino, vittima di botte e insulti sessisti. Vediamo l'immagine di questa donna. E la notizia all'età di 57 anni e dopo 33 di carriera Angela Copertino non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe scoppiata in lacrime, tutta tremante nel corridoio di una stazione della circunvesuviana circondata dalla gente, dai colleghi, dalle forze dell'ordine. Insomma un pianto disperato che si è placato soltanto nelle stanze dell'ospedale Apicella di Pollena Trocchia dove i medici le hanno prescritto ansiolitici e riposo con una prodiosi di 7 giorni. Un pianto frutto di un battibecco con un 16enne che prima l'ha insultata con epitoti a sfondo sessista e poi è tornata in stazione con la famiglia, padre, madre e fratellino di 10 anni per continuare a farsi sentire. A quel punto Angela Copertino non ce l'ha fatta più ed è corollata. Ha detto sì perché sono stata costretta a subire insulti e minacce che a un uomo non verrebbero fatti. Ma insomma ancora una volta casi contro le donne, ancora violenza gratuita. Ha parole questa volta, però anche le parole fanno male. E ancora vediamo una vicenda avvenuta ieri, crollo a scuola, il racconto della maestra ferita. La cartina si è mossa, poi solo polvere e urla. E infatti non si è ancora completamente ripresa lo shock. Daniele ha annunziato l'insegnante di sostegno incinta di quattro mesi che mercoledì era nella quarta classe elementare del presso di Corso Umberto I a Santa Anastasia quando un muro in calcestruzzo, areato, blocchi messi lì per dividere una stanza e ricavarne due è crollato con un boato, filando appunto sulla donda e creando momenti di panico e forte tensione. Insomma ancora una volta la preoccupazione per le strutture sempre più precarie. E ancora vediamo da Caserta News sequestrate ditte e slot dei imprenditori amici del clan e del blitz di finanza e polizia contro i fratelli Marciano. E infatti il personale della divisione anticrimine della questura di Caserta e della compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Santa Maria Capo Vetere sezione per l'applicazione di misure di prevenzione su proposta la DDA di Napoli nei confronti dei fratelli Davide Marciano, 25 anni Pasquale Marciano, 45 anni e Giuseppe Marciano, 44 anni noti imprenditori di Maddaloni attivi proprio nel settore delle slot machine e contigui alla consorteria criminale del clan Benforte attiva nell'area di Marcianise ed anche in paesi limitrofi e ancora una notizia di cronaca una brutta notizia di cronaca che però trova una diciamo così tra virgolette una soluzione abusi sessuali sulla ragazzina arrestato dopo 4 anni di violenza la vittima minore di 13 anni ha raccontato il tutto ai genitori e ai magistrati e vediamo infatti che aveva costretto per 4 anni una ragazzina minore di 13 anni a subire ripetuti atti sessuali per questo un cittadino rumeno residente a Bellona è finito agli arresti domiciliani nella giornata di ieri infatti il GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetra e successivamente al decreto di fermo disposto dal PM della locale procura ha applicato la misura restrittiva il fermo del PM seguiva da una serrata eccedere indagine delegate carabinieri della stazione di Vitulazio originata dalla denuncia sporta il 22 marzo dai genitori della ragazzina ai quali riferivano quanto appreso dalla figlia in particolare si appurava che l'uomo a partire dal 2014 fino al 2018 aveva costretto la minorenne a subire ripetuti atti sessuali rivelati dalla ragazza soltanto nel mese di marzo scorso quando riuscì a confidare ai genitori la terribile esperienza ancora vediamo notizie di cronaca sempre da caserta di uso proprio in relazione a questo periodo pasquale Uova di Pasqua infatti e Colombe che sono in primo piano risultano essere fuori legge ma che si sequestro dei NAS i carabinieri hanno denunciato due imprenditori sequestrati pensate un po' quasi 6.000 uova è infatti un blitz vero e proprio dei NAS di caserta e i carabinieri del nucleo per la tutela della salute hanno denunciato i regali responsabili rispettivamente in un'azienda all'ingrosso degli alimenti per aver detenuto uova di cioccolato in cattivo stato di conservazione lasciati esposti agli agenti atmosferici da raggi solari e di uno stabilimento di prodotti dolciari per aver commercializzato uomo a pasquali di produzione propria in realtà pensate un po' acquistate da altre industrie insomma prestiamo particolare attenzione proprio a queste situazioni ed ancora da Caserta Focus Casa Pulla spari dopo il colpo fallito in via Rimembranza banda di ladri messa in fuga dai carabinieri e vediamo l'immagine nell'immagine quanto accaduto paura in via Rimembranza a Casa Pulla in provincia di Caserta alcuni malviventi hanno infatti fatto irruzione all'interno di un'abitazione per ripulirla approfittando dell'assenza dei padroni di casa in quel momento sembra fossero in casa il piano dei delinquenti è stato però rovinato da un carabinieri in borghese a cui non sono sfuggiti i movimenti sospetti che ci sono stati nei dintorni dell'abitazione e hanno appunto evitato il peggio e ancora ci spostiamo su Caserta prima pagina e vediamo che si parla di europee questa volta di Grant candidato all'europea e questa è la domanda di Caserta prima pagina la lista su misura sarà eletto dice appunto Caserta prima pagina professione presidente BCC è membro del CdA Cassa Depositi e Prestiti carattere tranquillo ma se è il fatto suo se decide di risolvere i problemi li risolve altrimenti palleggia accompagna le persone al macero se decide di arrivare all'obiettivo ci arriva uomo di fiducia della Lega da oltre vent'anni Grant sarà eletto all'europea e non è incompatibile con i ruoli che attualmente rappresenta questo è l'opinione appunto di questa testata che anche oggi questo articolo rappresenta l'ultimo per questa rassegna stampa odierna vi ringrazio per essere stati con noi e per aver scelto la nostra rete intanto invito a seguire i programmi di Teleprima tutti i programmi di Teleprima ricordo come sempre che questo programma è offerto da Tecno Campus che ringrazio per la possibilità che ci dà di offrirvi l'informazione e come sempre vi auguro una splendida giornata e vi do appuntamento alla prossima edizione della rassegna stampa buona giornata a tutti e grazie Grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecno Campus Grazie a tutti